Come a volte mi capita avrei un sacco di contenuti da girare, un sacco di idee di cose da fare ma oggi metterò tutto in pausa per fare un Get Ready With Me. Ciao, io mi chiamo Laura e oggi faremo un Get Ready With Me con un po' di prime impressioni di prodotti che ho comprato proprio stamattina. Una delle cose più belle che trovo nell'aver fatto decluttering e nell'aver ridotto la mia collezione di makeup negli ultimi anni è che faccio shopping con molta meno ansia, un po' di pensiero ce l'ho sempre perché comunque non voglio ritornare ad avere così tante cose come ne avevo qualche anno fa. Però devo dire che stamattina l'esperienza di entrare in negozio, swatcharmi le cose, guardarmene, comprarmene un po' a cuor leggero perché tanto non ho tantissimi prodotti, o meglio ne ho tantissimi, non ho più tanti prodotti come ne avevo prima mi ha fatto veramente, mi ha reso felice, stamattina è stato uno dei miei pensieri felici. E volevo provare con voi alcune delle cose che ho comprato. Sono andata da Douglas perché avevo visto qualche giorno fa che erano arrivati i prodotti di Elf. Elf è un brand di cui io sono una fan della prima ora, nel senso che lo compravo quando ancora non c'era negli store, si comprava solo online. Ho comprato un po' di cose, trovo che sia un brand che è sempre stato abbastanza buono, abbastanza affidabile e ha avuto questa evoluzione, la capacità di evolvere da un brand che era assolutamente low cost perché quando io lo compravo le cose costavano un euro, due euro, cioè veramente poco a brand che costicchia un pochino di più, non è comunque chiaramente high end, non è un brand luxury però che comincia a costicchiare un po' di più e è riuscita a fare questa transizione da super low cost a medio costo senza far incavolare nessuno. Quindi evidentemente c'è stata una capacità. Secondo me parte della capacità è anche che tutto sommato molti dei prodotti che loro hanno performano davvero. Adesso ultimamente un po' più rispetto a prima stanno cominciando a fare dei dupe di cose di altri. Io mi ricordo che all'inizio non c'era molto questa cosa del dupe, forse anche perché c'era un po' meno hype su molti prodotti, un po' meno, non lo so, c'era una costruzione della narrazione sulla pubblicità molto più tradizionale e in qualche modo leggera rispetto a quello che c'è adesso sui social e quindi non avevano tanto bisogno di copiare gli altri. Sicuramente adesso stanno facendo di più, ho visto io ero andata in realtà perché volevo provare il loro dupe dell'Hollywood Flawless Filter di Charlotte Tilbury perché come vi ho detto nella V-Rotation mi sto trovando molto bene con il primer di Maybelline. Intanto comincio a truccarmi, se no ci mettiamo una vita e inizio da questo, che è il compact, il fondamenta compacto di Astra. Dicevo, ero andata lì per comprare questo dupe perché mi sono trovata molto bene con il prodotto 4 in 1 di Maybelline che è sempre una specie di dupe di quello, anche se secondo me sono anni che c'è il prodotto di Maybelline in commercio, non in Italia ma io me lo ricordo da un sacco di anni e volevo provare quello, in realtà quello non c'era, mi sono guardata un pochino allo stand e mi sono resa conto che c'erano anche altre cose che un po' cercavano di dupare i prodotti di qualcun altro, in particolare per esempio c'era il prodotto wand, diciamo quello con quei prodotti di tipo blush, highlighter e bronzer che hanno il tubetto che si spremla sopra il gommino, che chiaramente sono dei prodotti che sono ispirati a quelli di Charlotte Tilbury sempre, che sono usciti recentemente, non che sia una cosa che non fanno, cioè in realtà lo fanno un po' tutti questa cosa di copicchiare quel prodotto lì, lo fa addirittura Tart, di aver fatto dei prodotti che sono simili a quelli di Charlotte Tilbury, quindi diciamo che non è che non è nemmeno una cosa che fa solo Elf, però mi sono resa conto che effettivamente adesso sicuramente un po' di più lo si vede nello stand Elf, questa cosa di voler guardare ad altri brand, ad altri prodotti che vanno forte di altri brand. Però devo dire che comunque ci sono delle cose che sono interessantine e quindi mi sono presa qualcosa. Altre cose che ho voluto provare, sono andata anche in un'altra profumeria, non mi ricordo come si chiama, ma è una catena più locale che c'è qui a Roma, e c'erano delle cose che volevo provare di Astra, anzi c'è una cosa che volevo mettere subito, di Astra, che volevo prendere da un po' e che è questo, lo metto prima di parlarvi di quello che stavo mettendo sul viso, è questo qui, l'Astra Juicy Lipoil, l'ho preso sia questo qui blu, che è quello mentolato, che è quello rosato, di cui ho sentito l'odore in negozio ed è esattamente l'odore delle Big Bubble, cioè è molto, ricorda molto l'odore delle Big Bubble. Io avevo provato e finito l'altro Lipoil, quello classico diciamo di Astra, mi era piaciuto moltissimo, e quindi da quando sono usciti questi avevo il pallino di comprarlo, ma in questa profumeria, che è l'unica, diciamo è una profumeria di quelle un po' vecchio stile, con i brand diciamo super storici, e aveva anche questo stand Astra, che però fino a poco tempo fa non era particolarmente rifornito, e quindi non aveva per esempio tutte queste linee nuove, invece adesso ci sono nuove, ormai la Pure Beauty, insomma sono anni che c'è, però loro non avevano mai aggiornato diciamo questo loro stand. Credo che adesso Astra abbia fatto una... intanto provo a aprirlo, sto facendo bad, ok. Credo abbia fatto proprio una campagna di rinnovamento dei suoi stand, secondo me con il fatto che è arrivata anche Blue a salutarci in onore del polore del Lipoil di Astra. Dicevo secondo me stanno facendo, cioè con il loro rinnovamento, un rinnovamento che sta facendo Astra più generale, secondo me hanno fatto anche, come dire, una maggiore attenzione a quelli che sono i stand nei negozi. E quindi vabbè, sono andata lì a guardare prevalentemente per questo prodotto, per questo Lipoil. E mi sono detta... Mi sono andata a tocchicciare un po' di roba e ho voluto provare anche questo qui, a tocchicciare il tester di questo qui, che è il loro compatto, che io non credevo che mi sarebbe mai interessato. In realtà, quando l'ho swatchato, mi ha colpito un po' la texture, perché io pensavo che fosse una di quelle cose un po' acerose, invece non è leggerissimo, quindi forse io lo devo comunque... Cioè, anzi no, forse, sicuramente io lo devo settare. Però è un prodotto che ha una texture sulla pelle che è più... Almeno quando l'ho swatchato, l'ho sfumato lì nel negozio, era più cream to powder di quello che mi immaginavo. E quindi ho detto, vabbè, proviamolo. Tanto ho solo due fondotinta aperte in questo momento, e quindi potevo, insomma, mi sono detta che avrei potuto testare una cosa nuova. E l'ho messo, appunto, avete visto, l'ho messo con questo pennello, che è quello di Neve Cosmetics, da base, molto fitto e denso. Però volevo... Ho fatto cadere il lip oil blu. Volevo provare anche con la spugnetta. Non voglio usare la loro spugnetta, perché alla fine la trovo una cosa terribile, quella di usare le spugnette in donazione. Però mi piaceva l'idea di provarlo in tutte e due le maniere. Quindi adesso proviamo a vedere com'è con la spugnetta. Devo dire che sulla mano mi sembrava meno denso di quello che adesso sto sentendo sulla pelle. Mi sembrava più cream to powder di quello che sto sentendo adesso. Adesso lo sento più pesante. Forse la mia prima impressione, prima ancora di averlo provato, era più corretta di quella che poi ho avuto lì in negozio nel testarlo. La colorazione è molto chiara. È la prima, la numero uno. Però avevo provato sul collo la seconda e staccava. Quindi diciamo che come al solito un po' il problema del range di colorazioni astra purtroppo ce l'ha. Mi pare che questo fondo compatto arrivi in sei colorazioni in tutto. Quindi diciamo che è un po'... Come vedete in realtà è abbastanza adeguato al colore del mio collo. Ma io ho un... Insomma il mio viso è più... È più scuro del mio collo. Quindi questo... Devo sempre fare un po' di bilanciamento. Quindi l'effetto è questo. Qui con il... Con il... Pennello e qui con la... Spugnetta. Non mi sembra che in termini di... Di texture o di coprenza cambi molto. Era più... La mia pelle già lo sta in qualche modo... Non rigettando, però lo sta... Già si sente. Insomma un po' sopraffetta mi pare da questo... Da questo fondotinta. E sto facendo un po' fatica anche a sfumarlo qui. Ai bordi del naso. La spugnetta è venuta meglio. Diciamo che forse preferisco la spugnetta perché riesce a spingerlo un po' meglio nella pelle. E quindi a darmi un effetto meno... Mi sembra più la mia pelle da questa parte. Nonostante la coprenza sia simile. Però qui mi dà idea di essere più aderente alla mia pelle. Non mi dà la sensazione come da quest'altra parte di... Di coprirla, di fargli un po' un pastone davanti. Scusate, sono fatta il treppiero. L'effetto però devo dire che è molto naturale. Io qui, diciamo dal vivo, mi vedo molto meno sbiancata di come mi vedo nell'anteprima del cellulare. C'è nella ripresa del cellulare. E devo dire che l'effetto è molto bello perché sembra veramente che non ci sia niente sulla pelle. Anche come finish, come luminosità. Comunque, ne volevo mettere un correttore. Però sicuramente i correttori che io ho al momento sono troppo scuri rispetto a questo colore. Quindi quello che vado a fare è metterne un pochino sul dorso della mano. Questo qui è quello di Astra. Vedete che è un pochino più scuro sicuramente. E a mixarlo con il color case di Made by Mitchell. L'ho fatto un contenuto che non so se sarà già uscito per Instagram con le prime impressioni su questo color case. Sono delle creme di varie colorazioni, multiuso. Quindi potete utilizzarle sia come base occhi, come correttore, come base viso, come bronzer. Insomma, ha varie possibilità per utilizzarli. E uno degli usi per cui io in realtà l'avevo proprio comprato era proprio quello di utilizzarlo per mischiare, cosa che funziona abbastanza bene, per mischiare, questo così è troppo chiaro, il correttore, cioè per mischiare queste creme ad altri prodotti per la base in modo da correggerne il colore. L'avevo già provato proprio anche nelle primissime impressioni, devo dire che quest'uso mi piace abbastanza. Non ha una longevità pazzesca, queste creme non hanno una longevità pazzesca sulla mia pelle, però sicuramente usate così, cioè come correttore sopra a una base, funzionano molto meglio. Guardate che qui sto facendo troppo... Funzionano molto meglio e reggono molto di più. Usate proprio come base e basta, non hanno funzionato moltissimo. Sto facendo questa cosa di mettere questo colore un po' troppo chiaro. Io non amo schiarire molto il contorno occhi, perché trovo sempre che esca fuori un po' di grigio della mia occhiaia, però ad alcune invece questo effetto molto illuminante piace, quindi tutto sommato faremo questa prova stavolta. Quindi corretto le occhiaie, corretto le occhiaie e adesso vado anche a correggere le varie discromie, e i vari problemi, anche se chiaramente questo è sicuramente, il fondotinta di astra è sicuramente un prodotto che chiama una base leggera, non è un prodotto ipercoprente, quindi non voglio proprio cancellare completamente le mie discromie. Per cui adesso quello che vado a fare è che vado a settare la base e lo vado a fare con la cipria di Byterry, anche questa l'avete vista nel Levy Rotation, è una cipria completamente, allora la colorazione è quella translucent, quindi dovrebbe essere in colore, ma bisogna fare particolare attenzione, perché in realtà è una cipria che è vero che è in colore, però si preleva facilmente, siccome è molto 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 fina e facilmente se ne preleva troppa, se non scaricate bene il pennello, diventa veramente molto polverosa, si vede proprio che avete la cipria, e questo è un effetto che a me non piace affatto, quindi devo fare parecchia attenzione a scaricare bene tutto. Allora sì, sta funzionando, ad opacizzare un po' questo fondotinta, anche a settarlo, non lo sento più bagnatino sulla pelle, quindi va bene, ha funzionato. Adesso faccio un po' di contouring, ma insomma se si può chiamare contouring quello che faccio io, e lo faccio come lo faccio sempre, in questo periodo sapete che sto cercando di bucare la cipria di Nabla, lo skin bronzing di Nabla Profile, adesso questo sarà scurissimo su questa base così chiara, quindi devo andare super leggero. Quello che faccio di solito anche, cioè nel senso questa è una colorazione che a me sta bene d'estate, la sto usando anche ora d'inverno, perché la sfumo con questa, che invece è la Physician Formula Light Bronzer, della linea Butter Bronzer, che invece è perfetta per l'inverno, molto chiara questa, e mi piace molto di più sfumata così, perché mi dà quel punto di profondità in più la profile di Nabla, insomma qui per scavare la guancia, e questa poi la uso per sfumarci il colore di Nabla, e così facendo mi dà tridimensionalità, ma senza essere né troppo chiara né troppo scura. A me questi sono i colori in realtà che piacciono di più sul mio incarnato, quindi diciamo che c'è sempre un po' un problema di luce, perché la finestra non è perfettamente di fronte a me, quindi questa parte è più illuminata. Adesso voi la vedete, vedete questa parte più scura come se avessi messo più prodotto, in realtà io dal vivo vedo, cioè mi vedo simmetrica, quindi va bene, andrà bene così. Quindi, però per farvi vedere, non so se si nota, ma un po' di polverosità, la cipra di Badirri comunque me la lascia, dopo la andiamo a togliere con lo spray sassante di Elf. Allora, blush. Blush, vado a mettere il Patti Blush di Elf, questi qui che sono appunto in questo pottino, è da quando sono usciti, che se ne parla moltissimo, da quando sono usciti, che tutti ne parlano benissimo. Io ho voluto prendere questa colorazione, che già so che mi farà arrabbiare perché non c'è scritto sopra, la colorazione, no, invece c'è scritto Taiti, piccolissimo, di lato c'è scritto, pensavo fosse scritto solo sulla confezione esterna, già mi stavo arrabbiando, che è questo colore stupendo che io ho sbocciato lì, ce ne erano solo tre in realtà nello shop, prendo un pennello un pochino denso, nel negozio, nel mio Douglas, quello che ho vicino a casa, ce ne erano solo tre, vediamo come viene questo, mi sa che mi piacerà molto questo prodotto, io devo dire che mi sono completamente convertita ai blush in crema, perché trovo che siano molto più... in realtà da quando è cambiata la tecnologia, è migliorata molto la tecnologia dei prodotti in crema, che adesso, insomma, si usano con molta più facilità rispetto all'inizio, io li trovo molto più gestibili in realtà dei prodotti in polvere, un po' perché possono essere ritoccati molto più facilmente, vado anche in questo caso, faccio una doppia prova, faccio vedere anche da vicino, faccio una doppia prova a metterlo anche con la spugnetta, a vedere come viene, e quindi tendo a preferirli i blush in crema in realtà a quelli in polvere, questo mi sembra che sia molto bello, come prima impressione direi che si stende molto bene sia con il pennello sia con la spugnetta, il colore è davvero molto bello, proviamo a vedere di stratificarlo un po', e dà un effetto, vabbè, a parte sì il colore, anche su una pelle molto chiara funziona molto bene, ma mi sembra che dia un effetto levigante, è fortemente levigante, mi sembra, almeno da questa parte con il pennello, mi sembra che sia stato veramente molto, molto delicante, bello, faccio un attimo le sopracciglia, quindi niente, vi dicevo che stamattina sono andata a fare questo giro da Douglas in quest'altra profumeria, e sono stata davvero contentissima, ne faccio le sopracciglia come le faccio di solito, perché mi sono sentita libera di fare acquisti, perché l'idea di non avere tante cose a casa, che mi, come dire, che mi frenavano, di non dover pensare per forza che finisce, che devo finire tutto quello che ho a casa prima di ricomprare, mi ha davvero dato una tranquillità che non avevo dato tanto, nell'acquisto di prodotti, ora chiaramente, sto a fermare un pochino, ho già delle mire, in realtà, ho già delle palette che vorrei acquistare, mi sono detta che quest'anno voglio comprarne al massimo 5 in tutto, però già due delle cinque credo di averle decise, non so quando le comprerò, una è la Komodo di Clarity, che è un brand indie, che vorrei, vorrei che fosse, se non il prossimo, insomma tra i prossimi che scopriamo insieme, che vi vorrei swatchare, quindi sono molto tentata di comprare la palette, che è una palette che ha un po' di toni sul verde e sul blu, è abbastanza scura, ma con qualche tocco di shimmer, colori duochrome e multicrome, e sono molto tentata, perché adesso è disponibile su monolith, quindi c'è stato da poco il lancio, ed è ancora disponibile, sarei tentata di prenderla, e un'altra che continua a ronzarmi in testa, ed è una formula che io non ho mai provato, è la Pretty Grunge di Huda Beauty, io di Huda Beauty non ho mai provato niente, sono un po' spaventata dalla formula di Huda Beauty, perché ho paura che sia una di quelle formule un po' troppo cremose, che alla mia palpebra non piacciono molto, però, però diciamo che quella mi chiama molto, non è neanche una palette che è particolarmente, come dire, non ve la spettereste forse, perché io sono una da colori caldi o neutro caldi, invece quella è, diciamo più sul neutro freddo, però devo dire che è una palette scura, profonda, un po' nerastra, che mi colpisce per la storia colore, il che, insomma, non è assolutamente una cosa banale, sugli occhi voglio usare la palette Full Magic di Anne Hurtley, non mi sono ancora fatta un'idea su questa palette, ma la voglio usare proprio per un trucco veloce, non voglio fare niente di sconvolgente, già che ci sono, uso come base uno di questi, devo dire che non mi sta dispiacendo come cosa, questo di utilizzare prodotti di questo tipo come base, bisogna fare un po' di attenzione nell'applicarli, diamo proprio con un pennello di questo tipo, anche se sarebbe meglio un pennello un po' più a lingua di gatto, faccio un mix dei colori, di questi colori qua, vorrei una cosa più neutra, ma vabbè, non fa niente, l'importante quando si usano questi prodotti è pulire bene, asciugare bene la palpebra, perché altrimenti non aderiscono bene, quindi proviamo, come al solito io mi sto truccando, guardando solamente prima del cellulare, quindi, abbia sempre pazienza e pietà, però no, faccio la base, scema, con solo questo, questi colori qui, di, di made by Mitchell, queste creme di made by Mitchell, provo anche a, spingerle bene bene nella pelle, non voglio una base super, scura, voglio gestire poco a poco il colore, cosa che per me è abbastanza strana, perché sono una che invece di solito, insomma, carica anche fin troppo, un po', potrebbe anche andare bene, semplicemente così, e poi prendo, un colore, il marroncino, che dovete prendere, semplicemente, con un pennello, un pochino largo, un pochino da una sfumatura, proprio scemo, poi dopo decidiamo, che cosa metterci sopra, questa palette, è molto, come dire, sembra molto nelle mie corde, perché ha tutti questi colori, così un po' della terra, abbastanza, dentro caldi, quindi insomma, è abbastanza nelle mie corde, a guardarla così com'è, però poi, quando ce l'ho sotto mano, non so mai scegliere, bene, mi, mi freno un po', vediamo un po', sì, c'è la, lo specchietto, come uso questo, ma ripeto, voglio fare un trucco con velocità, perché poi, in realtà, la parte interessante, un'altra parte interessante, o meglio, una parte che a me incuriosisce, è che ho comprato, ovviamente, solo prodotti labbra, alcuni dei quali, anche un po', insomma, che vanno un po' di moda, quindi, allora, dicevo, non so mai che cosa scegliere, ma stavolta, credo che metterò, un po' di questo qui, questo qui, che è questo tuo gram viola, che poi si trasforma, in marrone verde, perché, ho preso, quasi solo, rossetti, o prodotti labbra, che vanno più sul violaceo, quindi, attenzione, legata alle mani da sola, no, devo dire che, non mi dispiace, anche gli shimmer, so che, Ann Hartley li ha riformulati, ma a me, questi non dispiacciono, vi farò, ovviamente, sapere, questa sarà un'altra, un altro dei brand, che finiranno, nei miei, alla scoperta, dei brand indipendenti, di cui parleremo insieme, di cui vi farò gli swatch, magari adesso vedo, semmai ce ne sarà un'altra, che mi interessa, aspetto di averne almeno un paio, per sbocciarvele, oppure, vediamo, se invece non mi interessa, vedo che non arrivano, altre cose che mi interessano, faccio solo questa, e le vediamo insieme, un po' le texture, però, intanto, la testo, metto giusto, un pizzico, di, del colore più chiaro, shimmer, all'angolo interno, per, dare questo tocco, di luce, e poi, come dicevo, passiamo, alle labbra, di labbra, per le labbra ho comprato, anzi, prima metto il setting spray, così poi passiamo, alle labbra, invece non le setto, in modo che posso provare più cose, ho preso questo setting spray, che è lo, Stay All Night, Microfine, Satin Mist, che evidentemente, si vuole rifare un po', all'all nighter, non sono sicura, che ci sia alcol dentro, sì, quindi devo fare un po' di attenzione, perché, aspetta, faccio vedere un nome, ok, che bella la, Allora, ha un buon odore, perché è un odore un po' fresco, sembra, quasi che abbia noto di tè, di tè verde, bello comunque, ha una bellissima, micronizzazione, proprio bello, non spadascia troppo, non spara troppo, e quindi molto bello, Allora, ho, Glossy Lip Stain, questi sono, appunto, le tinte glossi, di Elf, adesso le swatchiamo, prima sulla mano, e poi, vediamo, aspetta che mi sa che si è, che è andata un po' di stili, di broom, sì, forse si vede meglio, e, allora, ve li swatcho, prima sulla mano, e poi, vediamo cosa mettere, magari provo a sbocciarveli, comunque tutti, sul, sulle labbra, anche, allora, questa è la Lip Stain, brillante, e la colorazione, Spicy Sienna, poi ho provato i rossetti, in realtà, io ero attirata da rossetto nero, però poi mi sono detto, ma dove ci vado con il rossetto nero, cioè, l'avrei preso solo, veramente, per collezione, ma, insomma, sono un po' finite, i tempi, anche qui, le cose si compravano solo per collezione, e quindi ho preso un colore, sempre un po' bello strong, Untamed, si chiama, anche il nome è bello strong, e, però, in Lipstick, in Bullet, che è questo, Untamed, e devo dire che la linea, ecco, avevo swatchato il nero, io mi sono fatta la doccia, mi sono lavata, mi sono struccata, e ancora si vede, il nero, quindi, da male, come tenuta, e poi ho preso due altre cosette, invece, stavolta, mi sono fatta proprio, vabbè, ho preso una matita, la matita di pupa, per le sopracciglia, ma, vabbè, adesso sto usando questa di, sto finendo questa di L'Oreal, l'Infali Port Browser, con cui mi trovo bene, poi dopo, userò quella, aprirò quell'altra, e, dicevo, mi sono lasciata proprio, molto trasportare, dall'hype, e, ho comprato questi due, di Clarenza, di cui, sto sentendo parlare ovunque, e, sono uno, questo qui, il Velvet Lip Perfector, che è, una specie di, che ha questo applicatore così, ed è una specie di, rimpolpante, un po', un po' mousse, quindi, mi faceva un po' gola, vederlo, e poi, ho preso anche, invece, questo è proprio una cosa da Laura, il gloss, no, come si chiama, Lip Oil, sì, ho un Lip Oil, però, shimmer, super, Sbabam, che è questa colorazione, lei l'ha chiamato arancione, ma, di arancione, secondo me, non c'è proprio niente, lei l'ha, la tipa, l'ha, la commessa, super specchiato, adesso, proviamo, a metterli tutti, il, salviette di Bradipo, il mio figlio, proviamo, facciamo il primo tentativo, prendo una volta, per metterlo, per guardarmi, mentre lo metto, la prima cosa che metto, è questa qui, perché volevo vedere, l'idea che sia la più facile da togliere, innanzitutto, quindi, vado a provare più cose, andrò dalla più strong, la meno strong, la più strong, allora, prima applicazione, molto confortevole, il colore lo vedo un po' più sparato, nella videocamera, di come non sia dal vivo, però, bello, abbastanza confortevole, ha una di queste texture, un po' in mousse, che vanno di moda adesso, un po' stile, coreano, giapponese, insomma, rimane abbastanza, adesso lo togliamo, e proviamo, il lip oil, e poi provo le cose, un po' più strong, che penso siano quelle di, di elf, tornata alla situazione standard, metto il lip oil, che sto, brilluccicoso, allora, sento dire, un sacco di persone, no, a me non piacciono i glitter, sulle labbra, io sono tutto il contrario, a me, l'effetto glitter, sulle labbra, in realtà piace, trovo che, non mi stia nemmeno male, cioè, è chiaro che, ci sono persone, a cui sta meglio il matto, senza dubbio, io, penso di riuscire a portare il glitter, anche senza problemi, molto bello, l'effetto, sia da lontano, devo dire che, da più vicino, bello, come vedete, si ce li ha dei glitter, si ce li ha, si vedono, però, l'effetto da lontano, è più di, brillantezza, cioè, sembra che avete un, un lip gloss, molto, figo, semplicemente, quindi, non mi dispiace, si vede che è glitter, però, a me non dispiace, adesso lo tolgo, e proviamo, health, metterò ovviamente, prima, lip stain, di cui quindi, non testeremo, la durata, e magari, poi vi farò sapere, in qualche, heavy rotation, in qualche, video di testati, vi farò vedere meglio, il, cioè, vi dirò, quanto dura, effettivamente, intanto, volevo vedere qui, le texture, come sono diventate, perché questo, che è quello, che andiamo a mettere adesso, è rimasto specchiato, e anche, bagnato, invece, il, balm, si muove, il, no il balm, il, questo, il perfector, è come se si fosse un po' asciugato, anche se si muove, molto di più, una texture veramente, che sembra mousse, va bene, proviamo, il, 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 spicy sienna, non mi ricordo più come si chiama, lip stain, glossy lip stain, ecco come si chiama, faccio cadere tutto intanto, andreremo un po', un po' asciugato, è molto morbido sulle labbra vedo tutto un botto più sparato nel video di quanto non sia in realtà molto bello è molto confortevole anche questo vi farò sapere come vi dicevo della durata di cui non vi posso dire ovviamente ancora niente togliamo e vado a mettere vado a mettere il rossetto di elf faccio il contorno delle labbra il contorno delle labbra lo faccio con la matita di house laboratories perché vedete ci fa ed è la cosa che più ci si avvicina a questo colore così scuro tra quelle che ho è molto pigmentato si sente proprio anche alla alla stesura non perché scorra male però si sente che c'è molto pigmento non ve lo vado a sistemare ho messo un po' male ma lo sistemeremo è magnetico però la cosa buffa è che è magnetico cioè ha un verso nel senso che non in tutte le parti si chiude bene ma scatta questa cosa non mi era mai capitato di vederlo e faccio vediamo un po' se trovo se ritrovo la matita con il pennellino scusate il pennellino con cui avevo messo il correttore in modo che faccio il bordo in modo che faccio il bordo e lo visisco questi colori bisogna essere particolarmente precisi e non è una mia dote assolutamente ok ci sono riuscita questo è il colore molto bello lo porterò vi farò sapere anche di questo come si comporta quindi questi erano tutti i prodotti che io ho comprato non mi faccio un'altra spruzzata di questa che è stata particolarmente piacevole questi sono tutti i prodotti che ho comprato oggi qualcuno sull'onda dell'entusiasmo da social qualcuno più che volevo da più tempo provare da più tempo e vi farò sapere ovviamente tutto come si comporta eccetera ma se voi avete già provato qualcuno di questi prodotti scrivetemelo nei commenti perché sono curiosa di sapere come vi ci siete trovate se questo video vi è piaciuto se vi è fatto compagnia mettetegli un like se io vi sto simpatica iscrivetevi al canale e niente se vi faccio ci vediamo alla prossima ciao grazie a tutti